Grande protagonista della serata Stefano Maggiorin, l'ho detto anche in Telecronica, forse il migliore in campo? Beh, non lo so, sicuramente venivo da due settimane in cui tra influenza, poi la squalifica, ero un po' fuori forma, infatti i primi minuti ero un po' contratto, però comunque l'importante era la vittoria. Però doppietta anche? Sì, fa morale, soprattutto fa morale e sinceramente speravo anche di farne qualcuno in più, soprattutto anche per la classifica a marcatori. Beh, insomma ti abbiamo visto bello pimpante, guizzante, in palla insomma, però ecco, Padova che torna alla vittoria dopo il capitombolo che non ci voleva. No, probabilmente è stato un bel smacco, si puntava a fare questa decima vittoria, forse magari troppo convinti di vincerla e ci ha giocato questo sgambetto che non ci voleva anche per la classifica perché fatta il tale altre squadre l'hanno vinto, però ci sta. Si sono avvicinate, è sempre così qui al calcio al 5, comunque dicevamo gli altri avevano accorciato le distanze, però adesso ci teniamo stretti in secondo posto. Sì, sì, certo, l'importante è vincerle tutte fino alla fine o comunque fare sempre risultati utili, perché comunque noi puntiamo a arrivare secondi, puntiamo a giocarci playoff in casa, che è la cosa più importante. Grazie per la visione!